Sono la signora Bonimento Donatella, titolare della pasticceria Martini di Palombella, strada nuova e oggi la mia impressione per quanto riguarda l'apertura al servizio al banco è stata bellissima e speriamo bene che continui ad avere i miei clienti abituali come ho sempre avuto. Ciao, sono Paolo Lazzari e con mia sorella Laura gestiamo da 40 anni questa attività. Siamo chiusi da tre mesi, dovevamo ora di ritornare a aprire e siamo confortati dal fatto che i nostri clienti comunque abbiano ricominciato a prenotare per le nostre specialità veneziane. Per fortuna ci hanno concesso anche dei tavoli fuori almeno fino alla fine dell'anno e forse ci aiuteranno a sopportare questo periodo estivo dove in realtà saremo stati sempre molto penalizzati. Comunque siamo molto fiduciosi, contenti, speranzosi. Mi sembra come la notte prima degli esami, mi sembra di ricominciare da capo, però con lo stesso entusiasmo di 40 anni fa. Buongiorno, io sono Elia Girani e gestisco insieme alla mia famiglia della pasticceria Piteri in strada nuova Venezia Canareggio e volevo raccontarvi un po' le mie impressioni dopo più di 80 giorni di chiusura o restrizione molto severa nei riguardi della clientela. E' stata un po' tesa, è stata una tensione molto particolare nonostante i vaccini perché ritornare a vedere la gente senza mascherina all'interno è comunque un'emozione particolare e dopo più di 80 giorni veder la gioia nei clienti consumare di nuovo all'interno del locale è sempre certo che. e speriamo di continuare con questa nota positiva e di non tornare più indietro perché sarebbe molto tragico. Comunque è una felicità grande e non so più cosa dire.